Siamo a Misano per il mondiale Superbike e vi porterò a vedere la vita del paddock perché siamo in hospitality Ducati grazie allo Sponsors Tools. E adesso andiamo a vedere l'interno dei box Ducati. Vincitore a Misano Ducati a Ruba della Spagna, Alvaro Vincitore! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!